Prenderà il via il prossimo 26 aprile a Caltanissetta la requisitoria nell'ambito del processo sul depistaggio delle indagini successive alla strage di Via D'Amelio in cui morirono, come è noto, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Nell'udienza di ieri il presidente del Tribunale, Francesco D'Arrigo, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. Gli imputati sono tre poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo Falcone e Borsellino della squadra mobile di Palermo, assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara. I tre poliziotti sono accusati di calunnia aggravata dall'avere favorito Cosa Nostra. Secondo i PM Nisseni, i tre poliziotti avrebbero indotto il falso pentito Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni sottoponendolo a minacce, maltrattamenti e pressioni psicologiche e costringendolo ad accusare dell'attentato persone risultate poi innocenti. La sentenza è prevista a giugno.